Una notizia curiosa che arriva da Gorizia dove è apparso un enorme cartellone che sembrava pubblicitario ma non lo è di 16 metri quadrati, 6 metri per 3 con la prima parola scritta grande infame. I carabinieri hanno fatto un'indagine e non hanno riscontrato nessun lato che possa essere denunciabile. Quindi un cartellone regolarmente pagato 162 euro per stare esposto per 14 giorni. Questo a Gorizia e alcuni residenti giurano e spergiurano che è una lite tra due vicini di casa, una questione economica nel rione Sant'Andrea a Gorizia. Quindi un cartello con tutta l'esplicazione perché quest'altra persona dovrebbe essere infame, quindi destinata a una persona perché infame significa indegna della pubblica stima. Sicuramente una notizia particolare.